La meditazione che proponiamo oggi è una meditazione di autoguarigione, di presa di coscienza, di compartecipazione alla vis sanatrix del nostro corpo. In ogni organismo esistono delle cellule indifferenziate, chiamate cellule staminali, che sono preposte ad assumere connotati simili o uguali ad alcune cellule malate da sostituire, da rimpiazzare. Quindi sappiamo che nella scienza medica la studio delle cellule staminali, pur essendo avanzato, è ancora abbastanza poco utilizzato. In realtà in ogni corpo fisico avviene naturalmente questo processo di rigenerazione. Attivare consapevolmente l'opera di queste cellule staminali, risvegliarle e risvegliare la consapevolezza del loro operato aiuta ad accelerare i processi di autoguarigione, che sono il fine ultimo per cui queste cellule esistono. Quindi attraverso questa meditazione proposta oggi ci proponiamo di iniziare questo tipo di lavoro che può essere ripetuto all'infinito per qualsiasi circostanza e per qualsiasi necessità del corpo fisico. Ed è un vero e proprio lavoro di meditazione costruttiva. iniziamo un rilassamento fisico, iniziando dai piedi, rilassiamo le piante dei piedi che poggiano a terra, rilassiamo le gambe, il bacino, l'addome, rilassiamo la schiena, la gabbia toracica. Rilassiamo il cuore, tutta la zona cardiaca si rilassa, si dilata, il respiro si calma, si placa e diventa regolare. Rilassiamo le spalle, le braccia, le mani. Rilassiamo il collo, la testa, la massa cerebrale, il volto, rilassiamo la fronte, gli occhi, il naso, le guance e la bocca. Rilassiamo la gola, i denti. Facciamo un respiro profondo, espirando dalla bocca, rilassiamo il diaframma. Lasciamo andare le emozioni, si placano, lasciamo andare i pensieri, fluiscono. Portiamo l'attenzione al centro fra le sopracciglia, all'altezza del terzo occhio, nella parte interna. Visualizziamo un punto luminoso, al quale restiamo collegati collegati. Iniziamo a percorrere con il pensiero gli organi del nostro corpo, individuando quale di questi organi ha bisogno di essere sostenuto energeticamente, di essere rigenerato o di guarire da una patologia. Ci concentriamo su questa zona e mentalmente ci connettiamo con le nostre cellule staminali. In ogni corpo vi sono delle cellule staminali, cellule indifferenziate, necessarie alla ristrutturazione dei tessuti. Preghiamo le nostre cellule staminali di intraprendere un lavoro di ristrutturazione dell'organo malato, con amore, con riconoscenza, con rispetto, con serenità. Ci rivolgiamo ad esse, le ringraziamo per il lavoro che svolgono e con il pensiero le connettiamo e le inviamo verso l'organo che ha bisogno, pregando queste cellule staminali di iniziare un lavoro di rigenerazione, di ristrutturazione dei tessuti e soprattutto di sostituzione delle cellule malate o non più operative. Attiviamo in questo modo un'intelligenza consapevole nel nostro corpo un'intelligenza compartecipe del lavoro che le cellule staminali compiono sempre. Il lavoro delle cellule staminali è un grande dono dell'universo, ma come tutti i doni deve essere accolto con coscienza, con gratitudine, con consapevolezza. non accade attraverso il corpo mentale, ma attraverso un'intelligenza amorevole nel corpo, un'intelligenza del cuore. Le cellule staminali rispondono a questo tipo di linguaggio. osserviamo come queste cellule, immaginiamo le luminose, si dirigono e si concentrano nell'organo corpo, affetto da una patologia. Illuminando quella zona, e questo farà sì che anche la circolazione del sangue in quella zona aumenta, quindi la zona sarà più nutrita a livello ematico, a livello nervoso, a livello energetico e a livello amorevole. Su questi piani, diversi fra loro, ma che interagiscono, si svolge la guarigione, la ristrutturazione della parte malata o carente. Attraverso il respiro, durante l'espirazione, conduciamo ancora luce verso quest'organo o questa zona. Ad ogni respiro, inspiro energia ed espirando la conduco nella zona necessitante. E le cellule staminali continuano il loro lavoro. Ripetiamo mentalmente, le mie cellule staminali stanno lavorando a una rigenerazione, le mie cellule staminali si stanno attivando per una guarigione. Le mie cellule staminali si stanno attivando per una sostituzione. A queste cellule staminali io chiedo con con umiltà e gratitudine di compiere questo lavoro, iniziando da ora fino a che sarà necessario. Ora lasciamo andare completamente queste cellule al loro lavoro, senza interferire più con la mente o con l'emotività. Ci distacchiamo completamente da questa richiesta che abbiamo fatto all'universo e torniamo lentamente nel nel corpo, nella stanza, nel qui e ora, lasciando le cellule al loro lavoro. Facciamo tre respiri profondi, riprendiamo contatto con la realtà e diciamo grazie. Grazie.